I militari del Comando Provinciale del Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica Torinese, hanno dato esecuzione nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese a tre distinti decreti di sequestro preventivo in relazione ai profitti delle condotte di frode fiscali accertate per un importo complessivo di circa 6,6 milioni di euro. Le pertinenti indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, su delega della Procura della Repubblica, sono state finalizzate a ricostruire per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022 l'effettiva operatività e redditi dell'indagato, nella cui disponibilità sono risultate molteplici unità immobiliari, corrispondenti a circa 1.500 particelli catastali, identificative di altrettanti appartamenti, box, posti auto, soffitte, cantine e locali vari destinati a locazione. L'articolata e approfondita attività di Polizia Giudiziaria, successivamente sviluppata al riguardo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, ha preso le mosse dall'analisi della notevole mori di dati acquisiti attraverso le banche dati in uso alla Guardia di Finanza circa la gestione del suddetto considerevole compendio immobiliare. In tal modo emerso come il dominus indiscusso del presunto sistema evasivo individuato fosse un noto imprenditore del settore immobiliare torinese operante sulla scena cittadina da diversi decenni, soprattutto nel segmento delle locazioni. In proposito, è stato rilevato che la maggior parte degli immobili riconducibili all'indagato si concentra nelle aree urbane della città di Torino considerate più delicate, dove vengono destinate alla locazione, talora anche in condizioni precarie, a persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, sovventi e mediante contratti, di cui è stata riscontrata l'intestazione a persone diverse delle effettive inquilini. L'operatività dell'indagato avrebbe scarmato la propria attività di gestione degli immobili ricorrendo alla strumentale costituzione e interposizione di molteplici entità giuridiche, dalla varia natura, per complessivi 18 soggetti singolarmente privi di strutture e organizzazioni autonomamente idonee a produrre reddito. Ciò avverò simile prioritario scopo di ostacolare e indurre in errore l'amministrazione finanziaria e di occultare l'evasione fiscale connessa ai canoni di locazione immobiliare non dichiarati o percepiti in nero attraverso le predette entità.